È un premio importantissimo per l'ASCOM e l'ASCOM ci mette tutto come struttura, come dirigenza, perché il premio venga fuori al meglio ogni anno. Quest'anno siamo in questa splendida location e poi cercheremo sempre di migliorare un premio che per ASCOM è diventato qualcosa di tradizionale, un qualcosa di importante. Devo ringraziare anche tutti i miei collaboratori per l'impegno che ci mettono nella realizzazione di questo premio, di questi momenti che sono importanti, ma anche nella lettura dei libri, perché sottolineo come questo sia un premio dove i libri sono letti effettivamente tutti e vengono premiati per quello che è il valore dei libri, il valore letterario, il valore sportivo che ne viene fuori.